Qua, questa cosa qui, qui, questo qui, ah ho fatto, e lo giro, basta che ti piegano, vedi? Si, posso anche, vedi? Questa si sente, qua si sente, qua si sente, qua è proprio così, mi sto volendo adesso, volendo, solo pensi che in realtà non è così facile, vedi? Oh scusa, ok, scusa, no, allora è duro, dai, perché sai cosa fai? No, ma non mi sento dico, tanto chiuso qui, qua, obiettivo, prendere il gomito, contornare con la gamba, vedi? Qua, qui, io ho visto che prendono anche spalla, spalla, però trovo liberale, vedi? Difficile di colare spalla, però, e poi da qui loro prendono e spingono, come, queste tecniche non mi piace, mi piace, quando prendono spalla, mentre vedi, bisogna prendere, domito, basta prendere qui, e sta carati bene, non permetere che lui, e poi, qui o così, vediamo che la gamba, vedi? Non permetere che lui scappa, e poi piano piano, ok, vediamo cosa, adesso come chiuso, ultimo, dai, non ciò, con la gamba, con la gamba ti ha dato col, così, questo si fa, per te, abbastanza difficile, davvero, non sono lunghi, lungo, lungo, non sono lunghi, e tu sei abbastanza robusto, difficile, con uno con me, molto meno, da, quello stesso, con gamba, tutti, mei gommi, prima impara a prendere gommi, dentro, tutti bracciano fanno fada, no, fada, mi interessa così qua uscire fuori questo mi interessa per non prevedere passare con le gambe è stato il metto la terra di rimanere con il suolo che tu devi cambiare posizione vai 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 compra pi ma basta bite Atakati bene, Atakati kongo, Pio Gambi, Pio Gambi prima fai presa adesso contracto corpo bene, vedi io, vai, tieni, tieni no, no, aspettate, tieni, tieni tieni, tieni quattro contesta, tieni o, pieda cambia adesso devi contesta arrivare fino a mezzina con un movimento ho, bravo contracti, bè, ridri no, no, capi, tieni porsi, ronchi, pina, vraci no, no, nani, tieni pinji, sedi, lasu vai, 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 vai non devi solo tirare vedi, vedi avessi dimostra cosa fai te per capire devi senti, vedi, 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 vedi vedi, vedi, vedi vedi pinji vedi 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 io буci gdzieś fatti Janet ok c'è questo io ti hiero forza secondo invece devo ampio i amperi kombi